Salve a tutti da Marco Stefanelli del sito Sublimen.com un sito che tratta di audioterapia del profondo, così come la chiamo io in questo filmato andiamo a vedere l'utilizzo del famosissimo programma Idobe Audition attualmente in questo caso nella versione 1.5 per creare un battimento binaurale di tipo autopan modulation, cioè modulazione panoramica. Questo tipo di modulazione che utilizza Adobe Audition è un semplice metodo che aumenta e diminuisce il volume di un suono tra il canale destro e canale sinistro, il tutto su un modello di onda sinusoidale con una percentuale specifica al secondo. È un metodo che funziona efficacemente sia con musica che toni puri, ma ovviamente solo in stereofonia e quindi con l'utilizzo consigliato di cuffie stereofoniche. Vediamo qui una finestra principale di Audition, abbastanza ingrandita per poter visualizzare nei particolari vari elementi di gestione. Innanzitutto dobbiamo creare un tono portante oppure importare una musica, un qualcosa da poter modulare tramite l'autopanner. Nel nostro caso iniziamo e generiamo un tono puro, ma è possibile utilizzare anche un noise ed eventualmente lo vediamo in seguito. Iniziamo generando un tono puro di stereofonico a 16 bit di risoluzione a 44100 Hz di definizione e di sample rate. Generiamo, vediamo i parametri per la generazione di un tono a 220 Hz e con alcune frequenze armoniche collegate. Possiamo ascoltare anche un preview, premiamo ok e andiamo a generare appunto questo tono portante. Vediamo la forma d'onda, possiamo ascoltare. questo è il tono armonico su cui andremo a lavorare, ad inserire tramite il menu Effects e Amplitude per arrivare al Binaural Autopanner che è appunto la funzione che ci permette di inserire questa modulazione, questo battimento binaurale di tipo autopanner. Vediamo qui la finestra di gestione dell'inserimento del panning. Vediamo la rappresentazione grafica tramite l'asse X del tempo, in questo caso fino a 10 secondi e l'asse delle frequenze di battimento che hanno un reggio da 0,01 a 30 Hz. Nel nostro caso è nella massima estensione. Nella slide sottostante vediamo l'intensità che è attualmente impostata al 20% sia per la parte iniziale del grafico che per la parte finale. Ci pare una percentuale adeguata ma è possibile anche incrementare e diminuire per appunto enfatizzare questo tipo di effetto. Le due slide sottostanti servono per la centratura al canale destro e al canale sinistro ma in questo caso deve stare a 0, cioè centrato sia per l'inizio che per la fine. Un'altra impostazione interessante è appunto la possibilità tramite questa casella di spunta di attivare il solo delay generato per l'autopanner e ovviamente il solo delay è di minore efficacia e quindi in genere non viene usato. Noi appunto inseriamo un autopanner puro, ascoltiamo un preview, sentiamo infatti la frequenza 220 Hz modulata, clicchiamo su ok per poter inserire effettivamente l'effetto. Vediamo che il cambiamento della forma d'onda che in questo momento appunto risulta modulata. Andiamo ad ascoltare e questo è il risultato dell'inserimento di un battimento con autopan tramite Adobe Audition. vi faccio vedere anche l'analisi in fase in questa finestrina che ha un andamento come vediamo rotatorio e andiamo a vedere anche l'analisi spettrografica FFT in questa finestra. vediamo l'oscillazione dal canale destro al canale sinistro come vediamo nei vari punti alternativamente il volume è enfatizzato sul canale destro oppure sul canale sinistro. bene, a questo punto vi saluto per questo filmato vi rimando sul nostro sito di approfondimento sublimen.com dove trattiamo musicoterapia, psicoacustica e tutte le tecniche sonore utilizzate in audioterapia, musicoterapia in tutte le discipline appunto che utilizzano suoni e musiche per terapie varie. quindi vi rimando anche ai prossimi filmati dove cercheremo di approfondire sempre di più l'utilizzo delle tecniche, dei software, programmi, tecniche, metodi, protocolli per poter realizzare delle sonorità appunto audioterapeutiche un saluto da Marco Stefanelli e arrivederci e risentirci al prossimo clip grazie a tutti